I pompieri del distaccamento di Corso d'Argentina a Licata sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno ingenerito il portone d'ingresso dell'abitazione di un funzionario parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana e successivamente per domare il rogo che aveva avvolto un'autovettura. Mentre nel centro storico si sono registrati episodi numerosi di teppismo e tentati furti ad almeno 5 negozi. Ma andiamo con ordine. Il primo episodio si è verificato mezz'ora dopo la mezzanotte in via Giovanni Amendola, strada che collega il Corso Serovira al Corso Roma nel centro cittadino. Qui qualcuno ha piccato le fiamme al portone d'ingresso di uno stabile nel quale abitano tre famiglie tra cui quella di Antonio Pira, 41 anni, il prossimo 24 aprile funzionario del gruppo parlamentare dell'Ars dei Popolari e Autonomisti di cui è presidente l'onorevole pure lui di Licata Carmelo Pullara. Pira che è anche il genero dell'ex vice sindaco di Licata, tutto avanzato, scomparso il mese scorso è domiciliato nell'abitazione della madre al secondo piano di via Amendola dove ignoti hanno incendiato il portone d'ingresso. L'assistente parlamentare ha sporto denunce ai carabinieri della compagnia di Licata ed ha raccontato che nella nottata di lunedì, verso mezzanotte e mezzo, mentre dormiva è stato svegliato dai militari dell'arma che al citofono lo stavano informando di quanto accaduto. Praticamente non si era accorto di nulla. Scendendo per strada ha fatto mettere a verbale Pira, non ho potuto constatare soltanto che era stato incendiato il portone di casa. L'assistente parlamentare inoltre ha riferito ai carabinieri che la scorsa estate ha subito un'altra intimidazione. Gli pneumatici della sua auto sono stati tagliati, mentre la vettura era parcheggiata nei pressi del porto di Licata. Infine Pira ha fatto presente ai carabinieri che nelle adiacenze dell'abitazione della madre ci sono delle telecamere di videosorveglianza sistemate nelle vie Bolzano, Percotto e nella via Giovanni Amendola che potrebbero essere utili alle indagini. I carabinieri hanno aperto un fecicolo di inchiesta ed attendono la relazione dei vigili del fuoco. Pompieri che dopo aver spento le fiamme sono dovuti correre da un'altra parte della città per il secondo incendio della nottata. In via Palma infatti le fiamme avevano avvolto la chia Sorento di proprietà di una donna del luogo. Una volta raggiunto il sito i vigili del fuoco si sono messi a lavoro e hanno spento il rogo. Poi hanno eseguito un sopralluogo assieme ai carabinieri nella zona per scoprire le cause dell'incendio. Al momento secondo gli investigatori nessuna pista viene esclusa. Indagini dei carabinieri a 360 gradi dunque nel tentativo di fare luce sui due episodi. Ma la notte brava dei delinquenti nonostante la presenza sul territorio comunale dei carabinieri della polizia non è finita qui. Durante la notte sono state danneggiate le vetrine di due farmacie in Corso Vittorio Emanuele, una gioielleria in Corso Umberto e un bar in Piazza Duomo.